Buongiorno a tutti, Paolo Fiorelli, Presidente e Ministero Delegato di Millworks etc. Grazie all'AMCAM per aver chiesto un piccolo contributo su come stiamo affrontando l'azienda della crisi. Dal punto di vista aziendale siamo concentrati nell'affrontare l'emergenza che abbiamo diviso in cinque fasi, la fase di recover resilience, la fase di return, la fase di reimagination e la fase di reform. Le prime due fasi, il recover e le resilience, ci sono comitati in ogni paese dove siamo presenti circa sette paesi che affrontano con 5 o 6 persone per ogni comitato, affrontano e hanno avuto l'emergenza puntuale, l'Italia in primis per esempio, ma anche gli Stati Uniti oggi. Stiamo anche affrontando con due comitati, il sales and marketing operations, sia strumenti per affrontare in questo momento il mercato e strumenti per essere pronti quando si sarà ad affrontare il momento di return e quindi come cambiare il business as usual in funzione della storia accadente. E poi la quarta fase importantissima, le lezioni apprese da questa emergenza e eventualmente quali pali dove raggiungere la nostra ricetta standard per affrontare la reimagination o la parziale reimagination del business di ciascuno di noi. Dobbiamo fare in modo che questa paura sia preoccupazione, sia attenzione, sia forte concentrazione, sia capacità di lavorare in maniera ancora più efficace ed efficiente, ma che non si trasformi in paralisi. Infine un ultimo commento sulle reazioni transatlantiche. Io credo che con gli USA siamo parenti, fratelli, cugini, condividiamo cultura e valori. Nei momenti del bisogno si può e si deve essere ancora più vicini. Un caro saluto a tutti e stay safe!